Un cuscino di fiori a nome della città. Stamattina al cimitero degli inglesi dove riposa Pietro Lezzi, l'omaggio del sindaco di Napoli alla presenza della signora Nadia e dei familiari. La notizia della sua morte, avvenuta 13 giorni fa nella sua casa napoletana, aveva suscitato il ricordo unanime dell'ex sindaco e storico esponente socialista. Per la sua correttezza morale, il coraggio delle idee di giustizia sociale, la passione dell'impegno civico e la sensibilità nell'analisi e nella lettura della realtà politica. Lezzi era stato sindaco dall'87 al 90 e nello scorso mese di dicembre, in occasione dei suoi 90 anni, aveva ricevuto la medaglia d'oro della città, insieme con un messaggio di auguri del capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Ci teniamo moltissimo a portare il mio omaggio personale da sindaco a Pietro Lezzi, che non solo ho conosciuto da cittadino come sindaco, ma ho conosciuto adesso io da sindaco e lui da cittadino e ne ho apprezzato tantissimo le qualità umane, la profondità e la lucidità del pensiero fino alla fine, un socialista vero, una persona carica di passione, di entusiasmo, di umanità, una persona estroversa, geniale, effettivamente un bel ricordo perché appartiene a quei politici diversi, cioè una persona sempre attenta all'uomo e mai distratto dal profilo della profondità delle relazioni umane, quindi Napoli preserverà un ricordo straordinario di Pietro Lezzi.